Spara da me. Ora sei tu l'uomo di casa. E tu lo sai che cosa significa questo, da me? Che devi crescere in fretta. L'andrandeta non si sceglie, si eredita. Tu qui dentro fai il duro, ma là fuori, lasci che gli altri decidano per te. Tu non sei libero. Affidare il minore al servizio sociale. Per inserirlo in una regione diversa dalla Calabria. Fino al compimento del diciottesimo anno d'età. Bene arrivato. Quando ti viene in mente, mi scrivi che cosa vuoi fare. Non sto bene. Prima ero forte. Adesso sono debole. Prima sapevo sempre che cosa fare. Adesso sono dubbi. Prima non riuscivo nemmeno a ridere. Adesso mi viene sempre voglia di piangere. Prima mi piacevo. Adesso non so più nemmeno chi sono. Io non voglio fare la vita che fa mamma. E tu non vuoi fare la vita che fa papà. Scappiamo insieme. Però adesso sei libero. Puoi finalmente scegliere. E allora me ne voglio andare, Giudice. Lontano dalla Calabria. Voglio scomparire. Voglio andare in un posto dove non mi cerca più nessuno. Non mi piacevole. No, 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 no. No, 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 no.